salve a tutti amiche e amici e se oggi vi dicessi che c'è un segreto che tutti i piloti di aeroplani ed elicotteri studiano e che migliorerebbe la vita di tutti i giorni di tutti quanti mi credereste bene oggi ci addentreremo nella definizione e nelle applicazioni della cosiddetta sa ovvero situational awareness che tradotto in italiano suona un poco come consapevolezza situazionale di cosa si tratta come sempre cari amici e amiche prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto ci sono i due pulsantini per farlo è solo grazie al vostro supporto che trovo la forza di andare avanti per far diventare questo canale una realtà capace di autosostenersi perciò se volete darmi una mano troverete tutti gli strumenti per farlo in questa pagina l'abbonamento al canale se non lo sapete costa un caffè al mese ed è in questa direzione che vorrei muovermi in futuro con contenuti riservati proprio agli abbonati così come mi piacerebbe organizzare degli incontri e degli eventi con degli ospiti dal vivo in futuro in italia allora a prendere in esame le statistiche del mio canale la fascia di età delle persone che guardano i miei video è piuttosto alta come potete vedere questa cosa mi ha molto sorpreso all'inizio e anche responsabilizzato in un certo senso mi fa molto piacere ovvio così come sapere che fra di voi iscritti da più tempo ci sono persone che hanno avuto le loro belle esperienze in aviazione o in altri ambienti militari piloti ex piloti civili eccetera quasi sempre ve lo dico fra appassionati di aviazione c'è un atteggiamento di confronto molto civile e costruttivo e fra piloti lo si fa anche per necessità e virtù come si dice perché volare è pericoloso quindi è sempre una pessima idea ignorare i consigli o le esperienze altrui quando a studiarle si impara sempre qualcosa soprattutto in un ambiente in cui non puoi permetterti di rifare errori che altri hanno già fatto comunque conoscere gli interessi e le attitudini del proprio pubblico mi mette nella posizione molto particolare in cui so che devo ponderare molto attentamente quello che dico soprattutto quando si parla di questi temi delicati non vorrei mai incappare nell'atteggiamento tipico dello youtuber che per accontentare il suo pubblico di nicchia tende ad essere ridondante o fazioso perdendo oggettività e lucidità come avviene in tanti casi autoreferenziali per dimostrare a tutti i costi di essere alternativo o anticonformista contesi che campate per aria atte a dimostrare sempre e comunque a prescindere di essere la vittima di macchinazioni e censure e si finisce per essere faziosi insomma a volte quello che dicono i giornali è vero altre volte no non si può essere schierati per partito preso a prescindere no non credo che sia una buona idea se io stesso iniziassi a parlare a vanvera di missili da crociera russi tecnologie militari dimostrando pressappochismo e ignoranza so molto bene che voi non me lo lascereste passare che la qualità dei miei spettatori me lo farebbe notare subito quindi ecco come si dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei e allora quindi grazie di nuovo per i vostri commenti e il vostro contributo davvero molto importante per me ma non divaghiamo l'argomento di oggi è uno degli aspetti più importanti quando si studia per prendere un brevetto di volo ma allo stesso tempo è anche molto trasversale che può riguardare la vita di tutti i giorni di tutti quanti e questo per chi di voi ha figli e nipoti spero che possa essere un discorso che già avete fatto che già conoscete molto bene e che potete confermare ma quindi cerchiamo un po di vedere di cosa si tratta come ho detto all'inizio parleremo della cosiddetta consapevolezza situazionale con questi termini tradotti dall'inglese si intende situational awareness in realtà la lingua italiana non è precisa e non è trasmette il reale significato cioè lo distorce un po una persona comune potrebbe credere che si intenda con questo termine la consapevolezza della situazione che ci circonda giusto ma in realtà nella definizione in inglese che riguarda il fattore umano e i problemi psicologici in aviazione c'è un discorso che riguarda più l'analisi di quello che ci circonda nella prospettiva futura ora provate a seguirmi nel ragionamento e lo vedremo prima in ambito aeronautico e poi nelle sue applicazioni nella vita di tutti i giorni uno degli aspetti più importanti da capire quando si affronta la disciplina del volo sono i limiti del cervello umano in termini soprattutto di soglia dell'attenzione la mente umana non si è evoluta per volare ma per camminare e correre con i piedi ben saldi al terreno giusto di conseguenza l'analisi dei problemi e delle circostanze da una posizione statica a terra è diversa da una molto più dinamica come in volo ora al contrario di quello che viene raccontato di giulio cesare che oggi è considerato tipo l'esempio della multiprocessualità del multitasking in cui si diceva che fosse stato capace di dettare tre testi contemporaneamente in realtà questa è una bufala la multiprocessualità o il cosiddetto multitasking per dirla in inglese non esiste il cervello umano non è multitasking cioè non può fare realmente più cose contemporaneamente non almeno come crede l'immaginario collettivo è capace chiaramente di grandissime proprietà di concentrazione ma non può allocare le sue risorse in più attività contemporaneamente senza che queste non subiscano un deterioramento nella loro qualità soprattutto una delle cose che tendiamo a dare molto per scontate sono le cosiddette routine le cosiddette abitudini consolidate gli automatismi come ad esempio muovere le braccia usare le mani camminare parlare guidare una macchina queste attività apparentemente semplici in realtà hanno richiesto anni di addestramento al nostro cervello per poter essere acquisite e se prendiamo ad esempio il comunicare parlare o scrivere qualsiasi attività che fa la nostra mente è sempre molto impegnativa molto di più di quello che crediamo e la storiella che usiamo solo il 10 per cento del nostro cervello anche quella è una bufala colossale il nostro cervello lo usiamo tutto interamente pienamente e con l'enorme progresso della tecnologia umana e delle profonde dinamiche della nostra società con l'ingresso di oggetti che estendono le nostre capacità le nostre percezioni come telecamere internet social e tutto il resto molto spesso non basta neanche il 100 per cento del nostro cervello e lo vedremo quindi ho solo scalfito la superficie della questione ma quello che voglio dire è che parlare analizzare problemi ragionarci sopra e fare anche le più semplici attività motorie nel frattempo come guidare una macchina o camminare sono tutte attività che apparentemente non sembrano richiedere grandi sforzi mentali che apparentemente sembra che facciamo distrattamente ma in realtà di risorse ne richiedono e come ne richiedono tantissime e più il nostro cervello impiegherà le sue risorse meno sarà attento a quello che lo circonda per capire cosa cosa sto dicendo farò un esempio anche se oggi dovrò farne tanti camminiamo per strada da soli in città o in campagna come preferite non abbiamo preoccupazioni e possiamo goderci il paesaggio la nostra concentrazione sarà proiettata in avanti per guardare dove mettiamo i piedi per fare un appoggio sicuro evitare sassolini o ostacoli nel frattempo i nostri sensi saranno impiegati per osservare altre cose sentire i rumori percepire gli odori il vento sulla pelle eccetera eccetera potremo anche guardare più lontano prevedere come sarà il tempo nelle prossime ore prevedere un incontro di un amico che ci saluta da lontano più avanti eccetera eccetera quello che ho descritto è un esempio in cui la nostra mente impiega in modo equilibrato le proprie risorse per affrontare qualcosa per cui si è evoluta in milioni di anni in modo molto efficiente camminare osservare la scena analizzare ogni cosa valutare se ci sono pericoli e se possiamo iniziare una battuta di caccia e quindi se l'attività motoria e l'analisi attraverso i sensi sarà stata sviluppata con anni di crescita e allenamento diventerà per noi naturale camminare e osservare quello che ci circonda quindi molti di quei processi diventeranno automatici cioè non richiederanno un'attenzione particolare per noi sarà tutto automatico e così ci avanzerà qualche risorsa certamente ma spero di aver trasmesso l'idea che una passeggiata di piacere di questo tipo rappresenta un buon equilibrio per la nostra mente tanto da poterla fare distrattamente e lo stesso vale per la guida dell'automobile dopo un po di anni di guida sarà capitato a tutti di trovarsi a destinazione senza averci fatto caso giusto guidare è un'attività motoria molto complessa in realtà specialmente in italia che abbiamo la mania del cambio manuale e così la soglia dell'attenzione resta può restare alta bassa oscillare ma con il passare del tempo è facile che la guida diventi quasi un automatismo siete d'accordo ora provate a mettere nella scena che ho appena descritto non so una preoccupazione per esempio un problema familiare o una questione qualsiasi economica quello che sia uno stato emotivo negativo quello che è quello che preferite inutile dire che molte molte delle risorse mentali saranno dedicate in quella direzione quindi è facile immaginare che non saremo poi così tanto attenti al paesaggio i suoni gli odori che saremo più distratti giusto ok ora proviamo a mettere un cellulare o uno smartphone nell'equazione il cellulare con il suo schermo le immagini che ci obbliga a processare la lettura e la scrittura rappresenterà per il nostro cervello una sfida enorme che richiederà la sua massima attenzione scrivere leggere non è una cosa semplice per il cervello ha richiesto molto più tempo che camminare e parlare per intenderci ora immaginate una persona che cammina per strada con gli occhi fissi sul cellulare quanto sarà consapevole di quello che la circonda tutta la sua attenzione sarà dedicata al piccolo schermo e a meno che non ci siano grandi rumori di emergenze improvvisi tali da distoglierlo da quello che sta facendo potrebbero passargli accanto elefanti rosa e asini volanti senza che se ne renda conto questo ragionamento è molto semplice e anche scontato se vogliamo non serve neanche dirlo quanto è pericoloso usare un cellulare mentre si guida un'auto ora forse l'ho già detto altre volte io stesso sono un motociclista chi come me è solito guardare gli automobilisti con molta apprezzione potrà confermare di aver visto centinaia di casi in cui l'automobilista di turno con il cellulare in mano non si è reso conto di aver quasi steso un pedone che cercava di attraversare o altre cose molto peggiori come ignorare uno stop o un semaforo è capitato a tutti di guidare distrattamente usando il cellulare di ignorare completamente certi segnali questo perché appunto il cellulare è un enorme calamita per le risorse mentali e tutte le altre attività in corso motorie o legate alla percezione dell'ambiente circostante vengono inesorabilmente deteriorate voglio dire chi non è mai inciampato sui suoi passi mentre scriveva un messaggio con il cellulare in mano no spiegatevelo quindi per tornare all'esempio aeronautico la prima cosa che un istruttore di volo dice a un allievo riguarda questi aspetti pilotare un aereo non è come guidare una macchina che se si presentano problemi puoi sempre accostare e pensarci su quindi che significa questo che bisogna essere consapevoli dei propri limiti biologici e mentali che tutta la nostra attenzione dovrà essere dedicata al pilotaggio dell'aeroplano e nello studio della situazione circostante punto maggiore sarà la nostra concentrazione e attenzione miglia migliore sarà la nostra prestazione non ci piove è molto semplice come discorso e la differenza che c'è fra un pilota di formula 1 e io che vado a fare la spesa il sabato pomeriggio e nient'altro quindi nel pilotaggio di un aereo così come nel pilota di formula 1 non esisteranno telefoni cellulari pensieri distrazioni in generale quindi una delle frasi tipiche di un istruttore è proprio questa che ti dirà se si presenta un problema va affrontato immediatamente perché più tempo passa più diventerà grosso e se ne presenteranno altri a quel punto che si accumuleranno e arriverà presto il momento in cui non saprà più tempo e risorse per affrontarli tutti quanti anche qui facciamo degli esempi per capire meglio che cosa ho appena detto specialmente perché un problema non è detto che si intenda necessariamente come un fattore esterno o un imprevisto ma un problema possiamo anche generarlo noi inconsapevolmente e riporto la questione alla vita di tutti i giorni come sempre il guidare l'automobile faccio un esempio francesco è un tipo molto tranquillo che non usa mai la macchina la usa giusto per fare la spesa quindi non ha grandi preoccupazioni per tenerla sempre in ordine non cambia le gomme da un po perché alla fine per quello che gli serve non è necessario scusate credo di aver descritto praticamente me stesso in questo modo però comunque senza rendersene conto francesco ha permesso che un piccolo problema di usura delle gomme diventasse con il tempo una gomma troppo vecchia e completamente inefficace quindi un problema piccolo è diventato un problema più grande un giorno uscendo con la sua macchina per andare a fare la spesa scoppia un temporale problema ancora più grande mentre si sta recando al supermercato la visibilità è pessima e i tergici cristalli non fanno abbastanza anche questo è un problema che si è accumulato e che aggrava la situazione a quel punto due pedoni attraversano la strada a causa della pessima visibilità i suoi tempi di reazione sono lunghissimi e quando va a premere il pedale del freno la macchina non si ferma a causa delle gomme e i tuoi poveretti si fanno male la situazione che ho descritto un po estrema ma è un po per descrivere la concatenazione degli eventi e dei problemi che si accumulano e che degenerano ma ci dà un'idea appunto che come un piccolo problema delle ruote non è stato affrontato in tempo e in teoria è un po l'origine dell'incidente ma nella catena delle decisioni che prendiamo nella gestione e nella guida di un'automobile così come nel pilotaggio di un aeroplano e nella vita di tutti i giorni esiste sempre un momento fatidico in cui prendere la decisione giusta nel momento giusto cambia la situazione da una situazione a nostro favore a una dagli esiti potenzialmente disastrosi non ce ne rendiamo conto ma molto spesso avere un atteggiamento prudente e analitico dell'ambiente circostante ci salva da tante situazioni che possono degenerare molto facilmente l'approccio mentale è tutto in questo caso in questi casi per tornare al nostro corso di pilotaggio l'istruttore quindi ci ha detto di affrontare sempre i problemi tempestivamente per evitare che degenerino ma cosa si intende per consapevolezza situazionale quindi semplicemente essere concentrati risolvere subito problemi e studiare la situazione sì e no non solo in realtà per consapevolezza situazionale si intende anche la capacità di prevedere gli eventi di avere sempre una strategia per il futuro vediamo cosa significa l'istruttore di volo per spiegare questa capacità di prevedere il futuro ci dirà la fase di decollo è considerata per esempio la più pericolosa e critica del volo un pilota sa che il motore del proprio aereo potrebbe spegnersi durante il decollo o poco dopo il decollo anche se non succederà mai anche se il motore sarà nuovo e perfetto non bisogna escludere a priori questa eventualità anzi un buon approccio di un pilota sarà quello di considerare quasi come certa quella eventualità e dovrà quindi adottare e trovare una soluzione subito o averla già pronta una volta in volo quindi cosa farà il pilota prima del decollo studierà il terreno cercherà poi una volta in volo con gli occhi un punto dove atterrare in caso di piantata motore quindi procederà nel suo volo passo per passo sempre con questo atteggiamento di previsione avendo pianificato eventuali punti in cui poter fare una un atterraggio d'emergenza considererà così poi l'eventualità di tornare alla base se sarà possibile o cercherà un campo aperto per fare un atterraggio d'emergenza in sostanza questo consiglio vecchio più di un secolo che vale dagli albori dei pionieri fino ai giorni nostri di tutti gli istruttori di volo di tutte le scuole del mondo ci dice qualcosa di molto più profondo e interessante che può essere utile anche in tante altre situazioni e cioè di guardare avanti al futuro a possibili situazioni al tenersi pronto preparati per tutte le circostanze è un po come si dice sempre ai motociclisti non guardare i metri davanti a te guarda un chilometro più avanti è lì che ci saranno gli eventi che su cui dovrà intervenire quindi è lo stesso atteggiamento calmo e rilassato di chi fa arti marziali che studia le persone o l'avversario per l'autodifesa per intenderci è l'atteggiamento di chi scende dal treno alla stazione termini a roma o centrale di milano lo sa che deve avere occhi dappertutto e studiare il percorso più sicuro no l'attestramento e la preparazione fa capire che non ci si deve aspettare il verificarsi delle situazioni per affrontarle è meglio sempre saperle prevenire saper studiare un evento prima che si verifichi così il pilota deve guardare molto avanti pianificare e prendere decisioni in pochi secondi gli esempi che ho fatto sull'uso del cellulare sono molto significativi credo per un problema non da poco che ogni giorno è causa di gravissimi incidenti certo non voglio dire di essere paranoici però ecco spero di aver reso l'idea in generale bisogna dire che le donne sono migliori osservatrici degli uomini nella situazione che ho descritto e della situazione circostante è un dato di fatto sono un po più attente a cogliere i segnali di pericolo leggere il linguaggio corporeo per esempio a patto che queste donne siano attente e concentrate ovvio ma anche loro soprattutto negli adolescenti a causa dell'utilizzo del cellulare possono diventare prede molto facili dei malintenzionati e non serve dirlo ladri truffatori scammer personaggi loschi di ogni tipo sanno benissimo come riconoscere e sfruttare le persone distratte quindi il mio consiglio è di fare le scelte giuste come un pilota una scelta giusta è di dedicare l'attenzione al cellulare quando è soltanto è sicuro farlo pianificare il proprio percorso quando si esce avere un numero pronto sul cellulare o la fotocamera pronta chiedere scusate chiudere sempre le cinture dell'auto in città guardare anche negli angoli ciechi della nostra visuale ogni tanto soprattutto se si cammina per strada non solo in macchina lo stesso vale per i viaggi non dico di affidarsi a guide o pacchetti vacanze completi ma di pianificare e applicare le giuste strategie per evitare di cadere vittima di scippi e borseggiatori in genere le persone malintenzionate si rendono subito conto se qualcuno è distratto quindi le persone attente difficile che cadano nelle loro vittime dei loro raggiri quindi so che i discorsi di oggi possono sembrare scontati ripeto ma fidatevi non lo sono non lo sono per niente essere consapevole dei propri limiti e della mente umana è molto meglio che sopravvalutarla se parliamo di concentrazione e soglia dell'attenzione può fare veramente la differenza in tantissime circostanze così come la stanchezza incide tantissimo sulla soglia dell'attenzione per intenderci un pilota dopo un'ora un'ora e mezzo di volo iniziano a cadere la sua soglia dell'attenzione non è illimitata la soglia dell'attenzione così in automobile dobbiamo stare molto attenti al caldo e colpi di calore la stanchezza questo già di suo questo incide figuriamoci se poi utilizziamo cellulari o siamo distratti per altri motivi per quanto riguarda la formazione di un pilota a prescindere dal suo percorso che sia civile o militare questo è sempre un elemento cruciale che si studia molto a fondo e se andiamo a guardare per esempio la letteratura degli incidenti aerei è preponderante la stragrande maggioranza degli incidenti aerei se guardiamo le statistiche vede un 80 per cento dei casi di incidenti attribuiti ad errori umani in cui le criticità che ho sintetizzato sono la causa i piloti civili sia chiaro si addestrano tutta la vita alle emergenze che probabilmente non si verificheranno mai nel corso della loro intera carriera per quanto riguarda la formazione e gli imprevisti che possono invece accadere nel volo militare la faccenda è ancora più estrema e difficile un pilota militare dovrà affrontare situazioni ancora più stressanti e fare le scelte giuste in pochi secondi molto di più di un pilota di linea se un pilota civile non vedrà mai nel corso della sua vita certe situazioni per cui si addestra per un pilota militare quelle situazioni sono praticamente all'ordine del giorno un bellissimo esempio di quello che sto dicendo è di un fatto realmente accaduto da cui hanno tratto un film documentario è proprio Sally con Tom Hanks dove la formazione militare di Sally Sallenberg ex pilota della marina degli stati uniti si ritrovò con una doppia piantata motore proprio dopo il decollo e così gli permise la sua determinazione l'addestramento ad agire e prendere le decisioni giuste in pochi in pochi secondi gli permise proprio di fare le scelte giuste salvando tutti quanti con un ammaraggio ma ci sono molti altri casi simili di atterraggi su laghi ghiacciati o piste in disuso per quanto mi riguarda avendo preso il brevetto di volo nel lontano 2005 anche se è da un po che non mi ctedico la piantata motore e la gestione delle emergenze sono delle cose fondamentali da imparare per affrontare ad affrontare per ogni pilota e pilotare attivamente un aeroplano e non distrattamente ti cambia un poco la vita cambia il tuo atteggiamento verso automobili aerei motociclette in generale ha migliorato e reso molto più sicura anche la mia guida dell'automobile se per questo con i passeggeri che ringraziano ovviamente mi ha evitato tante situazioni molto pericolose durante i miei viaggi o nel mio lavoro in passato inutile dirlo le persone anziane spesso sono vittime di molti raggiri quindi spero che il discorso di oggi possa aiutare in qualche modo anche per capire meglio la situazione e sta per quanto mi riguarda è stato difficile ma sono riuscito per esempio anche a convincere mia madre in questo senso che un paio di anni fa riuscì a sfuggire a una truffa dell'assicurazione auto in questo modo con il classico truffatore che finse di aver subito una botta no capito cosa intendo quindi cari amici questo era il video di oggi spero che vi sia piaciuto l'idea era di trattare un argomento più leggero fra tanti video che parlano del conflitto in ucraina specialmente perché leggendo i vostri commenti sono andato a vedere alcune pagine che mi avete consigliato e non farò il nome però posso soltanto dire pietà mi sembra giusto che quelle persone quei canali ricevino ingiunzioni e censure visto che si comportano in questo modo indicibile alimentando non so non so neanche se definirla contro informazione russa però insomma abbastanza vergognoso io riconosco che una persona possa non essere competente su certe materie nessuno lo è alla fine io stesso non sono un vero analista militare ho semplicemente studiato certi argomenti però riconoscere i propri limiti significa che quando non sai di cosa stai parlando non puoi esserne certo no quindi se uno youtuber che vuole trattare tanti argomenti vuole fare il po il tutologo passatemi il termine della situazione non può parlare di missili russi se non è competente riconosci il tuo problema riconosci che non sei competente della materia e contatta qualcuno contatta un esperto intervistalo in questo modo sarà quella persona a dire le cose che tu non sai senza che fai la figura barbina no solo per accontentare quel pubblico che hai che sostiene la teoria dei complotti perché cosa se escludiamo la faziosità di una missione di un canale del genere o uno sponsor voglio dire possa che possa costringerlo costringerti a spararle così grosse poco di consapevolezza situazionale non guasterebbe per analizzare fonti e siti internet prima di dire certe cose riconoscere i propri limiti almeno sarebbe una gran cosa e chiedere a gente più preparata di loro non c'è niente di male a fare un video in cui si fa parlare più persone si esprimono le proprie idee mentre mettersi in cattedra e dire che adesso gli ucraini si colpiscono da soli gli ospedali o basare tutta la propria narrazione la propria teoria sul cercare di dimostrare che una foto è stata taroccata voglio dire no ci sono decine centinaia di altri canali che fanno lo stesso lavoro lo fanno meglio magari forse sarebbe il caso di sentire cosa dicono prima di spararle così grosse no cioè nessuno è in grado oggi senza delle prove definitive inconfutabili di dire fesserie se non ci sono le fesserie se il missile russo e ci sono i rottami il danno recato è quello di un missile da crociera se le immagini mostrano un missile da crociera se ci sono le fonti giornalistiche le immagini video le dichiarazioni e perché devi arrivare tu come un imbecille e mettere le pulci nell'orecchio di argomenti che non esistono soprattutto se non sei non appartiene anche alla materia di competenza non ne sai nulla no io spero che questo discorso sia arrivato perché purtroppo ho avuto anche commenti di tanti altri canali in questi giorni in cui ci siamo un po' sentiti e purtroppo la nostra è diventata quasi una missione e purtroppo però tanti canali che fanno contro informazione sbagliata da questo punto di vista hanno tanti tanti sostenitori quindi il mio consiglio è di dubitare dubitate di tutti spettatori sempre dubitate di quello che dico io siate critici dubitate di quello che dicono gli altri la cosa migliore da fare è andare aprire internet e fare delle ricerche cercate cercate per conto vostro e poi tornate e commentate non prendete per buono tutto quello che dice uno youtuber è sempre sbagliato a prescindere anche se è il più esperto militare della situazione bene amici per oggi è tutto e come sempre un abbraccio alla prossima